di Roma con 10.000 euro di capitale sociale, pensa niente, e stoccavano 3 miliardi e mezzo di gaffe, perché lo comprava in estate, costa meno, lo stoccavano niente e mezzo in Europa, non in Italia, in vero che costa di più, e si faceva un serbatoio di 3 miliardi e mezzo di gaffe, nel culo, sotto il culo di milioni di persone che lo sapevano niente, sotto i campi ideologici, sono una compra nucleare, fanno queste cose, fanno queste cose che bisogna scoprire, non possono neanche nascondere queste cose, stanno passando 3 miliardi di storie, 3 miliardi di storie, cazzo di storie radioattive, che vanno in Francia, le state depurate, tutti tornano in Italia, e noi non sappiamo neanche dove passa, mentre in Germania ho scambato che si vogliono 3 miliardi di storie, perché l'hanno l'informazione e l'agenda si attiva sulle costruite miliardi, noi non sappiamo niente, 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 e questo mi fa andare in bestia, niente, e abbiamo mezzi di comunicazione, ne abbiamo miliardi di televisioni, migliaia di dirai, e non ci informano delle cose normali, principali, abbiamo 90 testate nucleari in Italia e non sappiamo niente, non ne sono, abbiamo 90 testate nucleari, poi di che cazzo parliamo? Parliamo del film, del sindicatore, non sappiamo niente, questa è la nostra tragedia, adesso ognuno ha il dovere, non il diritto, il dovere di andarsi a informare, informare, informare a seguito